dal 5 luglio al primo settembre torna a borgate dal vivo teatro musica dal vivo presentazione di libri convegni e tanti momenti di incontro in piemonte valle d'aosta liguria e lombardia scopri il programma su facebook instagram e sul sito www.borgatedalvivo.it borgate dal vivo 2019 piccoli luoghi grandi emozioni borgate dal vivo